La motorizzazione civile di Siracusa e diverse autoscuole della provincia rettusea sotto la lente di ingrandimento. A seguito di articolata e complessa attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato, sono in corso molteplici perquisizioni, ispezioni e sequestri presso i locali degli enti submenzionati. Dette attività sono state tutte delegate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, cento le persone indagate. Nello specifico sono state accertate dagli inquirenti, centinaia di pratiche validate dai funzionari della motorizzazione civile nonché dai gestori di diverse autoscuole, inerenti al rilascio delle patenti di guida a soggetti che di fatto non l'hanno mai conseguita. L'articolato sistema escogitato prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili nei confronti di soggetti che in realtà non erano titolari dei predetti requisiti, in quanto nella più svariata casistica diversi utenti finali non hanno mai prestato servizio militare oppure non hanno mai ottenuto il titolo di guida all'estero. L'attività di indagine degli inquirenti volta ad accertare la reale dimensione dell'intero procedimento è in attesa di nuovi sviluppi.